e allora Gollum com'è la salitina? dai dai vai morire si certo se l'è cavata il Daniele se l'è cavata il Denis Daniele Denis è davanti ah non ce l'ha fatta io avrò rotto la visiera ma queste salite è il mio pan no io ho bevuto di più due grappini e due liquori due grappini e due liquori però ce l'hai fatta grande pensavo che era una sbarra che si apriva ragazzi vi faccio io strada non si sta neanche in piedi grande Filippo quello che è caduto in discesa l'ha fatta senza fermarsi ma nemmeno io è certo colpa degli altri è colpa degli altri si dice sempre così certo io ti vedo fermo qua vabbè scusa guarda ci passavi da lì ma se era asciutta venivo su anch'io io ti bagnato è ubriaco ahahah vai vai indietro se era asciutta se era asciutta se era asciutta se era asciutta dai 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 che ti voglio vedere Filippo l'ha fatta è fatta per queste cose che dici ma che cazzo oh perché sto a guidarla vai che ce la fai la fatica la fatica no no ormai la devi fare da lì no no ormai la devi fare da lì e il trattorino è un po' stanco il trattorino stanco ma lui 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 nel bosco è caduto e non l'abbiamo ripreso lui lui cade ma non lo vede nessuno no l'ho filmato io no lo pubblico l'ho filmato io con la mia caduta l'uomo di caver l'uomo che parla di caproni l'ho filmato la caduta la metto su ho detto porco di io che 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 l'uomo di Grazie.